La chiusura di serata con Emilio Lapari che raduna 8 cavalli con la lettera P, quindi 4 anni che la macchina stacca in questo momento le rotture di Pretoria B di Pecunias, la lotta per il comando dalla quale si ritratta Pio Giaolt tra Pari Lifeline, Paprika Como e Puzzle Font che insiste, Paprika si è ritratta, Puzzle Font e Nando Pisacane conquistano in breve il comando, 13.4 di Paletto, cavalli in lunga fine indiana, sono tutte femmine, 9 citrici di 18 mila euro in carriera con Puzzle Font che va in netto rallentamento già al quarto iniziale, quarto in 30 scarsi, il tabellone di centrocampo si è stoppato sul 14.5 della corsa precedente, raguaglio che ha ottenuto vincendo Powder F.I., intanto si viene al completamento dei 600 di gara in 45, due lunghezze di vantaggio della coppia dei primi due, il comando di Puzzle Font davanti a Pari Lifeline su Paprika Como che è terza e che cerca di riportare sotto il resto del gruppo, gruppo in quarta posizione, Pepita OM a precedere Pio Giaols, la corsa praticamente è tutta qui fra queste 5 con il rallentamento ma relativo di Puzzle Font che mantiene comunque andatura, 31.1 per il quarto degli 800, si va al chilometro di gara, passato intorno al 1.15, Puzzle Font in vantaggio, Pari Lifeline che non perde il contatto, Paprika Como che si rifatta completamente sotto e anzi cerca di andare di fuori poco prima dell'ultima curva, si va verso i tre quarti di Miglio, sotto l'impulso di Paprika Como che costringe anche Pari Lifeline a pararla, però rimangono lì perché Puzzle Font piazza ancora un 15 scarso di fronte e va in vantaggio anche all'ultima curva, 300 alla fine, la lotta per la vittoria sembra ristretta a queste tre, è richiesta in quarta posizione Pepita OM che ha perso contatto, l'addirittura arrivo col 14.4 di frazione, in vantaggio Puzzle Font, rimontano Pari Lifeline e Paprika Como che per un po' più indietro, Pari Lifeline si fa minacciosa e nel finale passa di una lunghezza scarsa per dominare Puzzle Font e lasciare terza Paprika Como, due minuti e una virgoletta per la media, hanno chiuso anche forte sotto l'impulso di Alessandro Fonte che per il training di Massimo Trevellini viene a vincere con Pari Lifeline che batte Puzzle Font numericamente 4, 6 e 5 il probabile ed ufficioso ordine arrivo del quale attendiamo la conferma. Grazie a tutti.